Ben a tutti ragazzi, Corgasmic e sono qui a portarvi una nuova serie che, se vi ricordate bene, avevo portato l'anno scorso sul mio canale, prima dell'arrivo di FIFA 15, l'ho modificata un pochino, adesso vi spiego tutto, cioè le Top 5. Volevo fare questa serie appunto un po' per diversificare i miei video, vi porto questa sorta di classifica che penso uscirà una volta alla settimana o una volta ogni due settimane, adesso vedrò poi in base anche al mio tempo libero, in cui vi porterò per ogni ruolo i miei 5 giocatori preferiti, che siano bronzo, argento o oro insieme, tutti a caso un po'. Ovviamente saranno portieri, 5 portieri, 5 difensori, compresi i terzini ovviamente, 5 centrocampisti, quindi compresi anche i trequartisti e gli esterni, e 5 attaccanti, quindi anche le ali. Quindi direi di cominciare subito, spero che questa serie vi piaccia, quindi vi invito subito a lasciare un bel like e a scrivermi nei commenti quali sono i vostri giocatori preferiti per ogni ruolo. Quindi cominciamo subito con il primo giocatore, cioè il numero 5 della mia classifica, cioè Lampson. Come potete vedere questo è Lampson, portiere bronzo della Columbus Crew, gioca quindi in MLS. Devo dire ragazzi che questo è un portiere devastante, perché ha delle statistiche soprattutto di tuffo e di riflesso molto molto alte, cioè vicine al 70, quindi per un bronzo davvero ottime. In questa classifica però, vi anticipo, non saranno presenti giocatori come Neuer o Courtois, perché ragazzi è ovvio che quelli sono i giocatori più forti che ci sono, non avrebbe neanche senso metterli in questa classifica. E ciò quindi non vuol dire che un Lampson è più forte di Courtois, vuole semplicemente dire che a me Lampson è piaciuto tantissimo, penso sia il portiere bronzo più forte del gioco, e ho voluto inserire in questa classifica, anche perché bisogna considerare i livelli. Lampson è il portiere secondo me più forte bronzo, come lo è Neuer per quelli oro. Comunque andiamo avanti, passiamo al quarto giocatore di oggi, il quarto giocatore in classifica. Stiamo parlando di Pionier, questo portiere, portierone argento, che mi è piaciuto davvero tantissimo utilizzare quest'anno. Gioca nella Ligan, nel Montpellier, come potete vedere, è francese, quindi potete farci anche un sacco di squadre, un sacco di ibride. Ve lo consiglio perché ha delle statistiche veramente impressionanti, soprattutto di tiro, cioè di tiro di tuffo. 81 di tuffo è una statistica da giocatore oro, cioè non si sta neanche a discutere. Come del resto anche il riflesso di 78 è molto molto alto. Molto molto alto presa e posizionamento sono sui 73, comunque un'ottima, ottime statistiche tranquillamente. Poi ovviamente si possono sempre aggiustare con delle camistry style. Vi consiglio anche questo giocatore perché vi salva veramente le partite, fa dei miracoli clamorosi. Poi andiamo con un altro giocatore argento, il terzo giocatore in questa classifica. Stiamo parlando di Costelpantilimon. Pantilimon, eccolo qui come potete vedere, io penso che sia il miglior portiere argento che abbia provato quest'anno. Ovviamente questa è una classifica in base ai miei gusti, ovviamente non saranno uguali ai vostri. Fatemi appunto sapere nei commenti quali sono i vostri. Pantilimon penso sia il miglior portiere argento che comunque non ho utilizzato tantissimo, cioè del tipo non è che ci ho fatto 150 partite. Però le partite con cui l'ho utilizzato è sempre stato veramente decisivo questo portiere. Non ha statistiche così impressionanti come potete vedere, però veramente si sente sempre il suo apporto, fa delle parate veramente incredibili durante le partite. Ha comunque un ottimo tuffo, un buon valore di presa, un ottimo posizionamento e un grandissimo valore di riflessi che secondo me sono importantissimi. È importante anche la reattività del portiere o la velocità, dipende un po' come la intendete. Lui ha 48, che comunque va anche abbastanza bene. Un po' meno ritengo sia importante forse il rinvio, che vabbè, dipende poi anche voi come giocate. Io di solito la passo ai difensori. Mentre andiamo in top 2, troviamo un giocatore oro e stiamo parlando di Team Howard. Secondo me è un grandissimo portiere, un portiere sottovalutatissimo, un portiere che vi salva le partite con grandissima facilità perché ha delle statistiche davvero impressionanti. In qualsiasi statistica, 84 di tuffo è ottima, 83 di riflesso è ottima, 77 di presa va bene perché anche se non hanno una presa altissima in portieri va comunque bene. 50 di velocità di reazioni, come cavolo si chiama, va bene, nel senso più di 40 è sempre ben accetta come statistica. Ottimo rinvio, quindi se volete anche rinviare è molto preciso come portiere. E un discreto posizionamento, non è altissimo, però comunque conta poco secondo me perché magari anche con una chemistry style aggiustata rimane secondo me un grandissimo portiere che se la può giocare con anche i migliori, tipo Noir ou Courtois. E poi andiamo con il primo giocatore di questa classifica, il mio portiere preferito, l'ho trattato tantissime volte magari nei vari squadbuilder, stiamo parlando di Joe Hart. Penso che sia per rapporto qualità prezzo il miglior portiere che si può trovare su questo gioco, mi è piaciuto anche a dire la verità anche Ruffier come portiere, anche Andanovic mi è abbastanza piaciuto. Mi è piaciuto anche Yoris che però non ho voluto inserire in questa, e anche Siriku che non ho voluto entrambi inserire in questa classifica per il semplice motivo che nelle ultime partite con cui li ho utilizzati non sono stati super, ecco diciamo così. Invece Hart non ha mai sbagliato una partita da quando l'utilizzo, questa è la sua versione upgrade, lui ha ricevuto appunto una versione upgrade da 82 a 83, statistiche impressionanti per quanto riguarda il tuffo e i riflessi che sono secondo me altissime. Ottimo valore di presa, 80 di rinvio che è molto molto buono, 80 di posizionamento che non è altissimo però secondo me conta veramente poco per Hart perché la sua statistica migliore è quel 60 di velocità o reattività o reazioni, non so come sia. È davvero una statistica importantissima perché nelle uscite Hart la prende sempre, cioè anche se ha Agüero l'avversario, Hart esce e la para, anche grazie ai suoi riflessi, permette a questo giocatore di prendere qualsiasi pallone ed essere sempre velocissimo nelle uscite. E secondo me ragazzi è una statistica super importante da tenere sempre a mente quando scegliete il portiere. Comunque raga, questa è la mia classifica, spero che il video vi sia piaciuto, che la serie vi piaccia. Come sempre ovviamente mi invita a lasciare un bel like, 400 mi piace uscirà la nuova classifica con i difensori che uscirà penso settimana prossima o tra una decina di giorni, adesso dipende anche poi dagli altri video che devo caricare sul canale. Fatemi appunto sapere nei commenti quali sono i vostri 5 portieri preferiti e se volete già darmi qualche consiglio sui difensori fatelo pure che sono sempre ben accetti. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!